Matteo, hai ripreso in mano il tuo centrocampo, adesso questo Parma sta cominciando a volare comunque. Sì, al di là di chi giochi o meno, è un Parma che sta facendo bene. Speriamo di mantenere questo livello per stare un po' più tranquilli in futuro. La concorrenza è alta davanti, per esempio tu hai Stulac, ma non solo. Adesso hai recuperato l'infortunio, come ti senti? E soprattutto, cosa vorresti dare ancora di più? No, io adesso inizio a sentirmi bene, dopo i fastidi di fine stagione scorsa e inizio di quest'anno. E la concorrenza è inevitabile, siamo una rosa di Serie A ed è giusto che ci sia. L'importante è che ognuno di noi non pensi a se stesso, ma pensi semplicemente ad aiutare la squadra a cercare di fare il massimo. Tu, ma lo stesso discorso vale anche per altri tuoi compagni, Barilla e Seigardi, addirittura vi state esprimendo in maniera ancora più convincente rispetto anche all'anno scorso. La Serie A stimola, evidentemente motiva? Beh, è ovvio che sia così, è una categoria comunque che non avevamo fatto tanto e ci teniamo in maniera particolare a renderla un po' più nostra. E poi è normale che la squadra ci stanno dando una mano perché tutti quanti stanno facendo un lavoro stupendo. L'ultima parte mia, avevi già assaggiato la Serie A ai tempi dell'Atalanta a Bergamo, adesso che campionato stai scoprendo domenica dopo domenica? È un campionato duro, impegnativo e rispetto a 7-8 anni fa cambia l'età nel quale lo affronti, lo vivi in maniera completamente diversa e con una consapevolezza diversa. Quando sei giovane vivi sensazioni in maniera diversa rispetto a quando comunque qualche anno in più. A proposito di Serie A, qual è la differenza maggiore che hai potuto riscontrare? Perché molti dicevano che in questo Parma ci fossero dei giocatori non all'altezza. Però qual è la principale novità, qual è la principale caratteristica? Come ti stai trovando? Beh, io personalmente mi ci sto trovando abbastanza bene. La differenza sostanziale penso sia nella qualità generale della squadra, sia nostra che avversaria, sia Alza. E di conseguenza determinate cose cambiano in campo, cambiano i tempi, cambia il modo di giocare. Magari alcuni giocatori ci possono trovare un po' meglio rispetto ad altre categorie. Tu hai anche un po' più di libertà perché l'anno scorso ti venivano a prendere sempre. Quest'anno invece sei tu che vai a prendere gli altri e di conseguenza forse hai anche un po' di possibilità in più nel giocare il pallone. Sì, è vero. È normale che il Parma in Serie B fosse la squadra da affrontare in maniera più intensa e complicata. Mentre quest'anno spesso il Parma comunque si trova a fare delle partite e dover andare un po' oltre i propri limiti. Può essere un vantaggio e penso che lo stiamo sfruttando bene. L'Aversa è uno che non cambia tantissimo, almeno in questi anni ce l'ha dimostrato. Però la tua seconda partita da titolare, consecutiva dopo il rientro di Sturlats, ha detto comunque che in questa squadra c'è anche Scozzarella. Ti ha chiesto qualcosa in particolare, ti ha fatto delle raccomandazioni? No, abbiamo un rapporto ormai che ci consente di capire un po' l'uno con l'altro, quello di cui appunto l'altro ha bisogno. Sono due anni e mezzo che lavoriamo insieme e ormai so che cosa vuole ad essere giocatori in determinati ruoli. Spero di poterla contentare, adesso e in futuro. Però pian pianino tutti quanti stiamo entrando un po' nella sua mentalità e penso che in campo si veda. Com'è giocare con Alves, Gervinio, questi campioni? Hanno alzato il livello molto, il livello di competizione, degli allenamenti, di concentrazione e ovviamente anche il tasso tecnico? Beh in assoluto il tasso tecnico della squadra, ma penso sia anche normale perché hanno comunque carriere diverse rispetto un po' a tutti noi. Poi la cosa che comunque salta all'occhio è il tipo di mentalità che comunque cambia radicalmente rispetto ad altri giocatori. e se entri nell'ottica di seguirli e di stare attento un po' di più a quello che fanno loro, migliorano anche te. L'ultima da parte mia, adesso c'è il Milan, ci arrivate con 20 punti, liberi e sgombri mentalmente. Cosa deve fare il Parma per continuare a stupire? Sì, ci arriviamo un po' più sereni, questo può essere un vantaggio, come no, la dobbiamo affrontare un po' come tutte le altre squadre, cercare di fare la partita giusta che ci consenta di portare dei punti a casa, poi non si sa quanti, speriamo il più possibile, però cercare di fare una partita di livello. Matteo, dopo l'ultimissima, un punto nelle prime tre giornate, poi il Parma ripresa a marciare, cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa? Io personalmente penso che la consapevolezza di ogni ragazzo che ha iniziato a affrontare questo campionato, pian pianino, si è aumentata, si è calato un po' dentro il campionato, quando inizi non sai bene cosa ti aspetta, quando poi lo vivi direttamente tante cose sembrano meno grandi di quante siano veramente. Francesco, a chiudere? Sì, te ne faccio due in una. La prima è che l'impressione è che tu faccia parte di quelli che si trovano meglio in Serie A rispetto alla Serie B, tu hai detto c'è che si trova magari meglio, l'impressione è che tu faccia parte di questi, cioè grandi partite, grandi dimostrazioni soprattutto di tecnica, la seconda è quando sei in campo tu la squadra pare essere più alta, cioè avere maggior libertà di movimento in avanti, da Versa ti ha chiesto qualcosa di particolare o ti viene spontaneo così tenerla alta? No, non credo di essere un giocatore che in Serie A giochi meglio perché sennò ci sei arrivato prima, però giocare insieme ai miei compagni in questo momento e affrontarli con questo spirito qua e con questa consapevolezza aiuta anche chi ci si è calato da poco nel campionato. E riguardo il mister no, non chiede niente in particolare, il mister è un allenatore che prepara molto bene le partite in maniera molto attenta e quindi tutti quanti al di fuori di me nelle ultime due partite quando giocano sanno quello che devono fare ed è tutto più semplice.